Laxmi Agarwal, direttrice della fondazione Chant, aveva 15 anni d'età quando un pretendente respinto rigettò dell'acido in viso in un mercato di nuova deli. Da allora è diventata la portavoce di centinaia di donne che ogni anno subiscono lo stesso abuso. Si è battuta per far approvare una legge che prevede il pene più severo per gli aggressori e che limita la vendita di acido al pubblico. Ha firmato adesso un contratto con un marchio di moda etnica indiana per lanciare una nuovissima linea che si chiama Face of Courage, faccia del coraggio. Laxmi è una donna molto forte, arrivato a uscire a Stoji, responsabile della casa di moda e che ha creato tutte le donne che hanno subito degli abusi. E sto fantastico di averla come modella e vederla posare con i nostri abiti. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione. Il video termina qua. Iscrivetevi, commentate e un saluto a voi tutti.